La Commissione europea ha approvato l'estensione del Blinatumumab in monoterapia per il trattamento di pazienti pediatrici con leucemia linfoplastica acuta ed è una svolta importante perché l'immunoterapia ha un approccio totalmente diverso. Il Blinatumumab infatti è un farmaco più maneggevole e meno tossico ma per capire la portata di questa innovazione siamo all'azienda ospedaliera Rilevanza Nazionale Santo Buono Pausillipone di Napoli e incontriamo la dottoressa Rosanna Parasole. L'ospedale Santo Buono Pausillipone è la struttura più grande dell'Italia meridionale come centro di oncoematologia pediatrica. In realtà l'atteso in Campania per le patologie oncoematologiche è quello di circa 209 diagnosi all'anno e divise tra bambini e adolescenti. Nell'ambito di bambini si considera da 0 a 15 anni e i bambini in genere sono intorno ai 100-120 all'anno. Di questi 100-120 100 vengono diagnosticati presso il nostro centro quindi l'80% delle patologie oncologiche vengono seguite presso il nostro ospedale. In più la leucemia aguta linfoblastica è la patologia più frequente dell'età pediatrica e corrisponde al circa il 30% dei tumori pediatrici e di questi l'atteso è 45-47 nuove diagnosi all'anno e di questi circa 35-37 vengono effettuate presso il nostro ospedale. Quindi ancora una volta l'80% della patologia oncologica nell'ambito dell'eleucemia aguta linfoblastica viene eseguita presso il nostro dipartimento. Noi siamo un unico grande dipartimento diviso in varie strutture compresse per cui c'è la struttura complessa di ematologia pediatrica, quella di oncologia pediatrica, il centro di trapianti di midollo osseo che fa tutti i tipi di trapianto quindi trapianto da donatore volontario, MAD chiamato appunto trapianto da familiare HLA identico e trapianto anche da cordone. In più abbiamo anche il centro trasfusionale con la banca di cordone ombelicale, noi raccogliamo tutti i cordoni dei genitori che vogliono donarlo e poi abbiamo il reparto di chirurgia oncologica e poi abbiamo il deospital oncologico che poi coadiuva tutti i reparti diciamo del dipartimento. Piccola nota, di solito anche nelle mie trasmissioni da sempre, voi sapete che io dico l'Italia per quanto riguarda la sanità è divisa nord, centro, sud, sempre con delle eccellenze che poi non riguardano il centro sud, ecco invece qua abbiamo la prova che c'è un'eccellenza che riguarda il centro sud, perché poi Napoli ma sul Napoli poi convergono tutta la Campania per questi bambini che hanno questa leucemia linfoblastica acuta. Ci vuole parlare di questa patologia? Sì, la leucemia acuta linfoblastica è tutt'oggi diciamo una patologia la più frequente ma anche quella che dà una prognosi migliore. Si calcola che circa l'80% dei bambini con leucemia acuta linfoblastica può guarire con la sola chemioterapia. Tuttavia negli ultimi anni diciamo la chemioterapia ci è andata un po' stretta a noi emato-oncologi perché a fronte di una buona risposta e quindi la possibilità di guarigione, gli effetti collaterali a breve e a lungo termine della chemioterapia sono a volte anche molto seri. Basti pensare per esempio che la radioterapia sull'encefalo predispone i bambini a un'incidenza più elevata di tumori del sistema nervoso centrale. quindi di seconde neoplasie. E proprio per far sì che i bambini crescano, guariscano ma che crescano anche sani senza sequele si è pensato anche di introdurre nuovi farmaci e questi nuovi farmaci biologici sicuramente sono il futuro della medicina soprattutto dell'emato-oncologia. Ecco perché finora anche in questo caso venivano usate le chemioterapie. Sequele a lungo termine e poi con dei disturbi che insomma potevano cambiare un po' proprio la qualità di vita. Anche dei piccoli pazienti. Sicuramente, soprattutto più piccoli sono bambini sotto l'anno possono avere disturbi dell'accrescimento, della capacità intellettiva, quindi tutta una serie di problematiche che poi si ripercuotono per tutta la vita. Quindi se si riesce a sostituire a paretà di risposta un farmaco chemioterapico con un farmaco biologico, questo può favorire diciamo un miglioramento della qualità di vita oltre che la possibilità di guarire ugualmente. Quindi adesso è importante che cerchiamo di capire questo nuovo anticorpo monoclonale, come lavora, anche perché è stato approvato dall'Europa e finalmente anche in Italia. Quest'anticorpo monoclonale è costituito un anticorpo bispecifico che agisce da una parte andando ad attaccare proprio le cellule leucemiche attraverso un meccanismo di tipo immunologico per cui l'anticorpo si lega all'antigene, sarebbe una specie di antennina che si trova sulla superficie delle cellule leucemiche. Lo stesso anticorpo però dall'altra parte c'è un altro braccio che lega la linfocita T. In questo modo che cosa succede? Che da questo doppio legame dei blasti da una parte e dei linfociti T dall'altra viene innescata la risposta immunitaria e quindi la risposta immunitaria consente la uccisione di queste cellule bersaglio, che sarebbero le cellule leucemiche, in maniera selettiva, quindi target solo sulle cellule leucemiche, tralasciando, quindi lasciando tranquille tutte le altre cellule del midollo, che sono le cellule normali e quindi si hanno molti meno effetti collaterali, quindi non vi sono per esempio effetti collaterali quali anemia, piastrinopenia, neutropenia, che provocati dalla chemioterapia che non è selettiva, quindi agisce su tutte le cellule e quindi gli effetti collaterali dell'animizzazione determinano una necessità appunto di trasfusione di sangue, quindi rischio infettivo, invece la diminuzione dei globuli bianchi determina un rischio infettivo perché vengono diminuite le difese immunitarie e così come se scendono le piastrine c'è il rischio di emorragia. Questo determina come conseguenza che la chemioterapia è più dannosa, più rischiosa rispetto a questo farmaco. Forse con questa nuova terapia i bambini non perderanno i capelli, perché ecco una cosa che sconvolge. Non perdono i capelli e non tanto, allora quello che sconvolge di più sono i genitori che vedono senza, perché il bambino piccolo insomma non ci fa tanto caso e gli adolescenti, una ragazzina di 14-15 anni che ci arriva da noi con capelli lunghi fino al sedere, è normale che diciamo se tu gli dici che gli cadono i capelli, per lei è peggio di morire, cioè nel senso che va incontro a depressione, si chiude nel mutismo, invece se uno gli consente comunque di vivere ugualmente e di tenersi i suoi capelli, cioè per noi rappresenta una cosa molto importante dal punto di vista psicologico. Mi rendo conto che se uno guarda diciamo nell'insieme al fatto comunque di guarire una persona con o senza capelli non ha importanza, però lo pensiamo noi che siamo adulti, ma un ragazzo, un bambino non ha lo stesso modo di vedere nostro e non solo, ma non sono solo i capelli, disturbi gastrointestinali, non solo il vomito piuttosto che altre problematiche, anche il fatto che il farmaco viene diciamo somministrato a domicilio per la maggior parte del suo tempo, perché loro stanno ricoverati solo i primi giorni, viene messa questa pompa che si mette come se fosse una borsetta e poi se lo portano a casa per altri 28 giorni, per un totale di 28 giorni, a loro consente di stare meno ospedalizzati, quindi sono tutta una serie di diciamo vantaggi che alla lunga possono essere sicuramente molto vantaggiosi sulla qualità di vita. C'è stata tanta ricerca per giungere a questo risultato. È anche un farmaco molto costoso, proprio perché c'è dietro una ricerca molto lunga, si pensi che noi già stiamo facendo un protocollo diciamo di fase 2-3 che in pratica per le ricadute precoci già lo stiamo usando da qualche anno questo farmaco, l'abbiamo usato anche per uso compassionevole in alcuni casi particolari, completamente diciamo resistenti alla chemioterapia e che invece hanno risposto all'immunoterapia e sono andati al trapianto e che ora sono vivi e stanno bene e quindi diciamo è veramente un progresso enorme della medicina e la cosa diciamo la novità assoluta è che proprio per i progressi che si sono avuti in così breve tempo questo farmaco sta entrando nel prossimo protocollo nel 2019 che partirà addirittura in front line cioè alla diagnosi nei pazienti ad alto rischio dove per alto rischio si intende alto rischio di recidiva della malattia verrà randomizzato quindi un paziente farà la chemio contro uno che farà la terapia innovativa quindi col farmaco binatumab e poi si faranno i confronti per vedere se effettivamente il binatumab riesce a ridurre la tossicità della chemio a parità di risposta o anche addirittura noi speriamo che sia anche meglio della chemioterapia questo si farà nel rischio intermedio e nel rischio alto quindi una cosa veramente molto nuova una vera novità se possiamo vedere un piccolo paziente che viene da lei perché viene da lei che cosa ha avuto e man mano come lo segue sì allora in realtà la diagnosi di leucemia è una diagnosi che può essere facilissima in quelli che hanno un'alterazione dell'emocromo molto importante con globuli bianchi molto alti in tal caso diciamo in genere o è direttamente il pediatra che ci contatta oppure tramite il pronto soccorso della nostra azienda viene poi riferito a noi a volte volte invece la diagnosi è un po' più subdola quindi ci sono dei sintomi molto specifici che possono essere condivisi anche ad altre patologie non oncologiche come basti pensare la mononucleosi infettiva quindi una linfadenomegalia persistente una epatospenomegalia dolori ossei astenia pallore eccetera possono essere sintomi diciamo piuttosto specifici e allora questi vengono poi inviati a noi in consulenza e quindi noi poi attraverso l'ago aspirato midollare che è lo strumento diagnostico che serve per fare diagnosi appunto di leucemia facciamo poi la diagnosi quindi iniziamo un trattamento quando arrivano da noi i primi 10 15 giorni stanno ricoverati il regime di ricovero ordinario poi vengono dimessi e la maggior parte della chemioterapia anche della chemioterapia viene fatta a domicilio in che senso che vengono in dei hospital fanno la chemioterapia e in serata entro le 6 6 e mezza di sera rientrano al proprio domicilio questo per almeno due volte a settimana quindi due volte a settimana noi cerchiamo la nostra abitudine nel nostro in questo nostro centro di cercare di minimizzare al massimo i ricoveri ordinari solo quando è veramente necessario perché pensiamo sempre per la qualità di vita che se il bambino affronta la malattia nel suo habitat con i suoi giocattoli con i suoi fratelli con i suoi genitori a casa propria ha anche una risposta migliore alla chemioterapia sembrerà strano ma è così cioè se un bambino si diciamo va incontro a una depressione risponde meno bene alla chemioterapia e naturalmente un farmaco innovativo come il benatumab consente anche di gestire una gestione ancora migliore ancora più a domicilio perché se si pensi che il primo ciclo dei primi 28 giorni solo sette giorni sono previsti di ricovero e dal secondo ciclo solo tre giorni capisce bene che insomma devono venire due volte a settimana a cambiare la pompa ma è una questione di dieci minuti e poi tornano a casa loro. Adesso appunto già c'è detto che verrà utilizzato anche nei casi in cui si può ipotizzare una ricaduta? Sì ora già lo utilizziamo in prima ricaduta precoce e con successo infatti oggi abbiamo fatto questa call conference internazionale in cui già sono 91 pazienti sono stati arruolati in questo protocollo su 205 che dovrebbero essere quelli per completare lo studio e di questi 35 sono italiani quindi comunque è uno studio internazionale quindi noi contribuiamo per una grossa fetta insomma dei nostri pazienti e al secondo il secondo paese nel mondo è la Germania quindi insomma è un altro studio parallelo ma non uguale lo stanno facendo in America col gruppo di studio COG e anche i risultati sono molto buoni quindi noi la nostra esperienza personale che nei pazienti che abbiamo utilizzato il farmaco abbiamo ottenuto ottimi risultati con nessun effetto collaterale quindi questo è una cosa che a noi veramente fa sperare molto bene per il futuro è una grande soddisfazione salvarli vederli crescere sapere che si sono sposati hanno avuto figli ci vengono a trovare e con questo ospedale rimangono attaccati per tutta la vita noi abbiamo addirittura sei o sette studenti in medicina una è già laureata in medicina e si sta specializzando in pediatria e ha scelto la tesi non chematologia pediatrica quindi e anche la tesi di specializzazione ha già fatto la tesi non chematologia pediatrica quindi queste sono grandi soddisfazioni perché significa aver essere stati utili per i bambini. dottoressa per la nostra trasmissione di informazioni su medicina sanità innovazione eccetera veramente grazie perché penso che sia un tassello importantissimo qui siamo a napoli ma questa è una voce che va in tutta italia perché comunque in tutta italia si deve sapere che c'è questa eccellenza c'è questo nuovo farmaco che può risolvere una patologia che altrimenti sarebbe drammatica. Io ringrazio voi perché è importante che la gente sappia e che venga messa a conoscenza dei progressi della medicina. Ciao!